8 giugno 1967. I caccia israeliani attaccano per errore la nave spia americana USS Liberty, uccidendo 34 membri dell'equipaggio e rischiando di aprire una grave crisi diplomatica fra Stati Uniti e Israele. L'episodio fa parte della storia della guerra dei sei giorni, combattuta da Israele contro Egitto, Siria e Giordania, durante la quale Israele conquista in meno di una settimana, un territorio quattro volte maggiore della sua estensione originale.